Buongiorno a tutti, allora facciamo il riepilogo di come sono andate le schedine doppie del Gigione per quanto riguarda le 52-51 partite delle qualifiche per gli prossimi europei 2020 perché devo dire che sono molto, ma molto, ma molto soddisfatto. I pronostici presi sono stati 44 per quanto riguarda l'1x2 eccetera, le singole, le doppie e inoltre ho pure azzeccato il risultato esatto di Belgio-Russia 3 a 1 scusse poco, ho buttato lì proprio quel risultato lì e l'ho preso quindi scusse poco, ho preso il risultato esatto, ho p'bacco, ho p'bacco per quanto riguarda i gol più over ne ho presi 35 su 51 un attimino meno 51 perché Kazakistan-Russia mi ero giocato solo, cioè ne ho giocato, vi avevo pronosticato solo l'x2 che tra l'altro è giusto perché la Russia ha stravinto 4 a 0 in Kazakistan avevo messo la x perché la vittoria del Kazakistan 3 per 3 a 0 con la Scozia mi avevo un attimino messo in allarme, ho detto attenzione che questo Kazakistan gli fa lo scherzetto anche ai russi e ce gliel'ha fatto solo alla A quindi devo dire che sono piuttosto soddisfatto, felice spero che qualcuno abbia usufruito dei miei consigli non abbia scelto le 8 che ho sbagliato naturalmente, ma abbia preso magari anche il risultato giusto mi farebbe piacere, io ho fatto la settimana sabbatica tranquilla, non ho giocato io ricomincerò poi nel weekend prossimo anche perché sono passato all'ottomatica purtroppo TOTOSI chiude, chiuderà il 31 dicembre quindi i prossimi schedine e bollettine saranno con le quote di lottomatica quindi vedremo come la mettono eccetera io farò sempre bollettine, schedine come sempre sceglierò le solite 4 partite, vi farò pronostici 1x2 eccetera quindi se vedete l'1-2 vuol dire ho vittoria in caso, ho vittoria in trasferta così lo spiego e poi il gol over a secondo e poi dopo naturalmente sceglierò le 4 partite per campionato e farò le bollettine su misura che poi vedete voi se giocarle o meno quello che ho sempre fatto un'altra cosa vera e importa parlando con uno dei miei compagni di pallone diciamo, di calcetto ha detto che ha fatto vedere i miei video alle bimbe quelle con cui giochiamo, ogni tanto giochiamo a pallone quando non arriviamo a 10 chiamiamo due ragazze che giocano a calcio a livello normale però giocano a calcio in una squadra eccetera si allenano e infatti ogni tanto nonostante siano piccole vanno via di maledetto anche ai nostri amici ci lasciano lì e ogni tanto qualcuno mi segna anche dei signori gol però non mi sento in colpa se prendo gol da loro perché queste giocano però mi consigliavano di mettere qualche cosa sul retro quindi stavo pensando di mettere una locandina o qualcosa sulla porta che vedete alle mie spalle o di un film o di un personaggio o di quello quello che pensate che vi piacerebbe fosse dietro io lo cambierò naturalmente ogni tre mesi poi chiederò al fotografo di farmi un ingrandimento 50x70 da mettere lì attaccato alla porta carino che possa andare bene per dare un attimino più di vita diciamo al mio retro perché non volevo mettere nella classica come fa il mio amico Tony Tedo che ha la sciarpettina dell'Inter o come fa anche Sarenka che ha la sciarpettina dell'Inter volevo fare qualcosa di simpatico che non mi costasse una cifra visto che non navigo nell'oro purtroppo salvo che qualche santo guarda giù quindi se mi date qualche consiglio il 21 giugno cioè il primo giorno d'estate inaugurerò metterò appunto un qualcosa alle mie spalle una locandina può essere una locandina un poster comunque o di un personaggio o di un film che farò fare dal fotografo spero di stare dentro nelle 20 euro non di più perché ogni tre mesi 20 euro non è che sia il massimo della vita giusto per dare un attimino di vita alle immagini alle mie spalle detto questo vi saluto vi ringrazio fatemi sapere voi che cosa vorreste anche varie opzioni perché così tanto poi per tre mesi metterò quella lì poi metterò la seconda opzione poi la terza poi la quarta saranno cose prese da internet spero che non ci siano problemi di copyright perché metto un poster alle mie spalle perché sennò veramente siamo messi veramente molto male dovrò sentire magari prima YouTube cosa mi dice se posso mettere un poster alle mie spalle di un personaggio o che cosa o se c'è problemi anche su quello perché come ben sapete abbiamo questo bel problemino che hanno appunto approvato la legge sul copyright e quindi adesso dovremmo stare attenti a tutto quello che facciamo tutto quello che postiamo perché ci possono far chiudere il canale in un nanosecondo e capite che tutto il lavoro fatto fino adesso io ho più di mille video sul mio canale me lo chiudono non è che sia il massimo detto questo vi saluto vi ringrazio aspetto le vostre proposte ciao